eeeh salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video siamo qui su daredbydeliked se pronuncio bene per creare questa nuova partita eeeh avevo commesso di farmi una nuova partita e vorrei che non si impallasse mi si impalla da morire questo gioco eppure il pc è buono boh eeeh speriamo che lo migliorino nel tempo eeeh facciamo una partita come sopravvissuto e usiamo le claudette che nome di merda andiamo a fare qualcosa di nuovo proviamo a rispondere la fortuna che ho troppo subito nel mostro non ci danno ad istante ecco il mosore però questo è un po di merda ok speriamo non abbiamo la spiega questo è una persona della spiega problema su cui ah no è un amico ok 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 eh oh oddio oddio che cacone questo gioco 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 senti falsi dappertutto cazzo il mostro l'ho visto un figlio di puttana e merito col mostro l'aspetto se non sbaglio oddio quanto inquietante oddio quanto inquietante questo gioco ragazzi ragazzi un figlio di puttana e merito un altro figlio di puttana e merito a parte c'è solo uno quindi è sempre il solito figlio di puttana e merito no non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto col figlio di puttana e merito non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto direi che questo lu può diventare anche invisibile il lu può diventare anche invisibile è vero col figlio di puttana e merito può diventare anche invisibile se lo sento vicino no non c'è i caconi mostruosi questa mappa la odio non l'ho mai beccata ho fatto molti ripartiti in questo cazzo di gioco a merito non ho mai beccato questa mappa del cazzo sto cogliendo rendo senza un senso e sono un coglione sono andato nell'unico posto in cui non devo andare FAN CULO FIGlio di puttana FAN CULO ti muoio la famiglia anche se sei già morto ti muoio la famiglia anche se sei già morto ti muoio la famiglia anche se sei già morto ti muoio la martini famiglia anche se sei già morto figlio di puttana ok 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 scappiamo scappiamo da questo stronzo oddio quanto mi piace questo gioco ok ok l'ho perso ok ok fan culo mi ha visto non dovevo fuggiare questo tasso ho sbagliato accidentami merito di morire merito di morire merito di morire fan culo figlio di puttana fan culo figlio di puttana merito sei un grandissimo figlio di stroio lo sai nooo stronzo ok vediamo di liberarci ok 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 divincolati dai divincolati 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 noo sotto noo figlio di puttana noo sei un grandissimo stronzo sei un grandissimo stronzo aaaah Ah, per nessuna donna essere infilzato in questo modo non mi piace. No. Dai, non hai un cazzo di muscoli. Non hai un cazzo di muscoli. No! Ma no, non hai un cazzo di muscoli, vaffanculo. Non hai un cazzo di muscoli. No. Tocca di cominciare da capo. No. La fine è da te. Ok, abbiamo perso altrimenti subito, proprio così, alla merda proprio, abbandono. Andiamo a trovarne un'altra. E rieccomi qua con la nostra amica Claudette. E ce ne siamo... Oh, ciao fratella gemella, sorella gemella. Ok. Andiamo subito a trovare un motore. Eccolo là un motore, eccolo là. Cerchiamo di sistemarlo. E magari di non farci inculare subito altamente, proprio. Ok, amica, sei brava, dammi una mano. Oddio, che paura. Paura che mi sbuchi dal culo subito. Eh no, eh. Ci ho messo due ore per trovare una partita. Ma vaffanculo. Oddio, dopo anni ce l'ho fatta ritrovare una partita, ragazzi. Ce ne è voluto di tempo, credetemi. È da mezz'ora e passa che cerco una partita. E vediamo di farla bene, per favore. Perché non ho più voglia di stare qui a cercare partite. Speriamo che il Lost non esca come tutti quegli altri che ho trovato. Ora io vi lascerò quella piccola clip del Lost che esce all'improvviso senza dire nulla. Oddio, santo, sta arrivando qui il mostro. Oddio, santo, è vicinissimo. No, no, non voglio morire subito. Eccolo lì, no. Fanculo, 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 fanculo. Ora. Dai, l'avevo pisciato io. No. Ok, dai, dai, dai. Non devo morire, non devo morire, non devo morire, non devo morire, ma vaffanculo, c'è la cosa qui. Ok. Dai, se se la campi, la lascia qui. E che cazzo, ragazzi. Io mi sono rotto, coglioni. Questo video è tutto. Vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se volete. A condividere il video mi farebbe veramente, veramente tanto piacere. Lasciare un commento, un dirmi che faccio cagare a questo gioco. Arrivederci. Pum. Grazie.